Era rimasto incastrato con una zampa alla ringhiera di un terrazzo, ma è stato recuperato grazie ad uno spettacolare quanto providenziale intervento dei vigili del fuoco. È successo a Montevarchi dove questa mattina sono intervenuti i pompieri del distaccamento valdarnese con due mezzi e cinque unità. Il canne era rimasto appeso per la zampa destra posteriore alla ringhiera di un terrazzo al terzo piano. I vigili del fuoco del locale di staccamento lo hanno così raggiunto con un'autoscala perché non era possibile riportarlo in casa dall'interno. La squadra dei vigili del fuoco è riuscita nell'intento portando il canne sano e salvo, solamente una piccola ferita alla zampa ma niente in confronto al pericolo a cui questo cucciolo si è esposto.